La musica dei professori d'orchestra del Carlo Felice è di fronte alla prefettura di Genova. C'è anche questo nella manifestazione dei lavoratori dello spettacolo che ha riunito nel capoluogo circa 300 persone per chiedere la riapertura di teatri, sale e cinema. Ripartire è possibile e si può fare in sicurezza, spiega Franco Ippolito, segretario generale di Fistel Cisle Liguria. I protocolli ci sono e sono sicuri. Abbiamo dei dati, un'associazione di categoria, dove nel periodo in cui appunto i teatri avevano potuto operare nel pieno rispetto dei protocolli, dove abbiamo avuto un solo caso di contagio tra il pubblico su 370.000 spettatori circa. Quindi insomma i protocolli noi riteniamo che siano validi e con questi protocolli che si possa ripartire da subito come oltretutto ha già fatto la Spagna ad esempio. In Italia, continua, c'è poca sensibilità sull'importanza del settore, a dimostrarlo anche l'entità degli investimenti del governo rispetto a quelli ad esempio di Francia e Germania. Oltre alla necessità di ripartire, i lavoratori hanno anche chiesto il rinnovo dei contratti nazionali, una riforma legislativa dello spettacolo, la stabilizzazione dei precari delle fondazioni lirico-sinfoniche e sostegni economici per la categoria fino alla fine dell'emergenza. Gli ammortizzatori sociali messi in campo finora non sono sufficienti. Non dimentichiamoci che oltre ai lavoratori che stanno subendo l'ammortizzatore sociale e quindi che hanno delle decurtazioni salariali pari dal 45 al 50% delle loro normali retribuzioni, non dobbiamo dimenticarci tutto quello che è l'indotto e purtroppo anche il sommerso di questo settore. Al termine dell'incontro di martedì la prefettura ha detto i sindacati che farà da portavoce delle richieste dei lavoratori con il governo. È necessario cambiare rotta al più presto. Molte problematiche sono state solamente amplificate dall'epidemia ma erano già presenti. Questo settore ha bisogno da subito di investimenti certi e chiari, di leggi che diano lungimiranza a quello che dovrebbe essere il settore trainante insieme al turismo per il rilancio economico dell'intera economia del paese. Potrebbe essere il volano per rilanciare l'economia del paese nei prossimi anni. Grazie.